Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi dopo un sacco di tempo torniamo a fare un book tag, ovvero il NOPE book tag nel quale sono stata taggata da Giorgia di Passione Rettorica che saluto e ringrazio per questo tag magnifico perché ci sta, no? è un po' il classico tag dove tu dici no, non sono convinta per niente, NOPE, di tutte queste cose che state mettendo dentro affronteremo un sacco di ambiti, dai protagonisti, ai cliché, ai libri in generale, agli autori prevedo già un sacco di pollicini in basso ma se state per farlo vi ricordo che vi verrà la candida cronica detto ciò no, sto scherzando ovviamente prima di iniziare il video volevo ricordarvi che se non siete ancora iscritti al canale mi raccomando fatelo ed attivate la campanellina oppure se per i vostri acquisti Amazon volete utilizzare i link che trovate giù nell'info box di affiliazione mi ha aiutato a mandare avanti il canale e questo ovviamente mi fa più che piacere ricordatevi anche di lasciare un pollicino in alto per il video se vi piace detto ciò andiamo e iniziamo subito con il tag tra l'altro ho appena acquistato un tiragraffi nuovo per i gatti che è l'altezza perfetta per reggere il computer dove ho segnato le domande vabbè, comunque non era questo il punto partiamo, domanda numero 1 nope ending, ovvero il finale un finale che ti ha fatto dire proprio no, non è possibile un po' perché non ci stavi credendo oppure perché eri arrabbiato o semplicemente perché è un finale di merda sarà un po' colorito questo tag, sappiatelo, preparatevi allora, sapete tutti che io cito sempre un finale che per gli ultimi 4 capitoli mi dà fastidio che è quello di Bright We Burn ma visto che dobbiamo essere un po' originali, ok? ma non lo saremo per molto, vi preannuncio secondo me è un finale che non è che mi ha fatto arrabbiare semplicemente lo trovo un finale molto rischioso e ve ne ho parlato a lungo nel video della recensione che vi linko qua su, è quello di King of Scars visto che questo non voglio che sia anche il regno degli spoiler non andrò oltre, diciamo che a me non è dispiaciuto non lo trovo forse quello che avrei voluto io, questo sì ma soprattutto lo trovo un finale che, cioè, mette avanti parecchio le mani e tanta carne al fuoco e vogliamo proprio vedere nel prossimo cosa riesce a combinare Leipardugo speriamo due, il NOPE main character ovvero protagonista un protagonista che a te fa schifo e che ti fa impazzire e che però questo dislike and drives you crazy sarebbe più da descrivere come ti fa uscire di testa e io per questo ho un sacco di nomi perché io sono la regina proprio di quello che dice ma perché sei tu il protagonista o la protagonista e direi che in primis ci tiriamo subito di nuovo la zappa sui piedi e parliamo di Alina perché Alina, come sapete tutti dalla trilogia Grisha ovvero da Shadow and Bone in poi per me è proprio uno dei motivi principali che ti fanno apprezzare poco la trilogia o forse uno delle pecche più grandi della trilogia perché Alina, io ho un personaggio che non ho mai sopportato se l'agna sempre sembra sempre che capitano tutte a lei stella di mamma ti prego ripigliati detto ciò, invece, tutto il resto della trilogia secondo me è molto apprezzabile ci sono tante cose interessanti eccetera però diciamo che Alina non è tra queste e direi che anche per questa volta mi fermo qua sembra che sto per distruggere Libertugo in realtà a me mi fa sempre molto ridere quando io parlo male delle cose che a me piacciono molto la terza domanda invece è il NOPE Series ovvero una serie nella quale hai investito un sacco di energie di tempo eccetera ma alla fine hai capito che non ti piaceva oppure che va sempre peggio ecco, per questa serie io in realtà vi cito una serie che a me non era dispiaciuta però mi sto rendendo sempre più conto che non ho interesse ad andare avanti in questa serie non è per cattiveria, le voglio anche bene alla Sabatair, è cara e simpatica però devo dire che A Torch Against the Night e in generale la serie di Un Amber in the Ashes ovvero del dominio del fuoco ho sempre meno interesse a leggerlo cioè sono lì che non so bene se mandarla avanti se andare avanti cioè A Torch Against the Night ce l'ho da un anno e non l'ho ancora iniziato vorrà dire qualcosa diciamo che è una serie che avevo letto molto leggera in maniera molto leggera senza approfondire troppo e nonostante il secondo mi fosse piaciuto più del primo devo dire che non è mai stata una serie scritta così bene da proprio investirci grande tempo e quindi ora che è passato un po' non mi ricordo tante cose non lo so non ne ho voglia la continuerò non ne ho idea cioè boh no arriviamo alla domanda numero 4 quella che tutti stavate aspettando ovvero No Popular Pairings ovvero le coppie famose una ship che tu non supporti e qua apriamo apriamo proprio delle delle voragini ok beh che dire io non supporto praticamente nessuna relazione di Sarah Joy Mass in particolare Aileen e Rowan che li trovo raccapriccianti proprio vabbè poi parleremo dopo di Rowan purtroppo come Fairy e Riesand perché Fairy è un personaggio orribile e Riesand ha un leggero problemino di manipolazione mentale e altre coppie che odio sono ovviamente Jace e Clary sono non mi piacciono neanche male Alina insomma male Alina non ci piacciono ma tanto io odio talmente tanto Alina che eh e poi anche di recente Ophelia e Thorne se c'è una coppia che ha dei problemi di comunicazione sono loro e poi vi dico una coppia un po' sorpresa ciò che so che piace a tanti e io invece la trovavo in influente cioè secondo me il libro sarebbe andato avanti benissimo anche senza questa coppia cioè è un po' spoiler un po' quindi se non avete letto Nevernight tappatevi le orecchie 30 secondi ma a me non piacciono Mia e Trick ho fatto coming out e non mi piacciono cioè secondo me Mia non ha necessità di avere un appoggio amoroso e boh Trick vi dico quando quando è stato il momento di a me proprio vabbè ma comunque non è questo il punto andiamo avanti sapete che io generalmente sono molto rigida sulle coppie perché secondo me è proprio problematico rappresentare soprattutto nei libri per ragazzi delle coppie disfunzionali delle coppie che hanno gravissimi problemi di comunicazione delle coppie abusive che vengono romanticizzate questi sono i motivi principali per i quali io fatico a trovare delle coppie che invece a me piacciono e trovo anche sempre sbagliata la rappresentazione di coppie problematiche 5 unope plot twist ovvero un plot twist che non hai proprio apprezzato appieno e io in realtà cioè di questo libro potrei parlarvi del libro intero ovviamente perché di plot twist quando sono geniali a me piacciono tantissimo però diciamo che questo è più un problema di libro ma soprattutto del plot twist perché è irrealistico perché proprio prende le basi che noi conosciamo di questo mondo e di alcuni personaggi e li scaraventa fuori dalla finestra adesso non me frega niente e in questo caso sto parlando di Cursed Child il plot twist che doveva spiegarci tutte le cose che noi insomma eravamo stati zitti fino a quel momento e avevamo detto sì è una merda però magari boh se riprende sul finale nope nope non lo fa e fa anche peggio perché cioè io spero che voi non lo leggiate mai quindi ve lo racconto io e se non volete invece gli spoiler ma tanto non dovete leggere Cursed Child cioè dovete fare finta che non esista comunque quel plot twist dove sta qua è figlia di Voldemort cioè ma no Voldemort ma no quando ma non ha senso cioè ma io ve lo giuro che più penso a quel libro più vorrei prendere gli autori e sfracassargli il cranio l'uno contro l'altro perché cosa hanno pensato quando lo stavano scrivendo no cioè vabbè mi sto già agitando troppo perché quando penso a quel libro mi viene solo rabbia sei nope decision ovvero una decisione presa da personaggi protagonisti eccetera che ti ha fatto proprio dire ti ha fatto proprio scuotere la testa e dire ma cosa state facendo e in questo caso sempre recenti visto che ve ne ho parlato proprio molto di recente dico solo per non fare spoiler Nicolai Zoya Yuri sette nope genere un genere che odi non ti piace non sopporti non vorrai mai leggere allora io devo dirvi che in realtà è dura che io mi tenga lontano da qualsiasi genere cioè magari ho quelli che non mi piacciono particolarmente però alla fine sono sempre stata aperta più o meno a tutto e devo dire che proprio in generale i generi che proprio me pigliano meno sono il romance soprattutto perché purtroppo io non riesco a distaccare il romance da tutte le problematiche delle relazioni dal fatto degli equivoci le cose non dette di solito si fondano tutti su questa cosa poi non è vero ci sono esempi invece molto migliori proprio che solo il romance per me è sempre troppo poco cioè se c'entra la storia d'amore a me ne frega niente perché non me ne frega niente delle storie d'amore cioè se sono inserite per far crescere i personaggi all'interno di una storia che parla d'altro perfetto se è solo su quello mi annoia altra cosa che io non amo sono i thriller gli horror quelle lì però cioè non dico che non ne ho mai letti anzi di tutti questi tre generi le ho letti non sono il mio ecco la domanda numero 8 è nope format ovvero un formato che tu odi o che eviti di comprare perché non lo so aspetti sempre che arrivi un altro formato addirittura personalmente frego ne merito del formato cioè devo dire che tra tutti i formati di libri quello che mi piace meno è il hardback perché è scomodo per me almeno per me da leggere però è esteticamente meraviglioso quindi poi ho degli hardback anche se poi magari sto prima ho letto il kindle ecco non me ne frega assolutamente niente del formato l'importante è sempre il contenuto domanda numero 9 invece è nope trop ovvero un cliché insomma una formula che tu proprio dici no ti prego no allora e su questo ovviamente a parte i classiconi soprattutto legati all'ambito emotivo e l'ambito amoroso cioè le relazioni vabbè solite quelle che vi dico sempre ci sono due cose che io proprio non riesco a mandare giù mai il primo è il cambiamento del sistema magico cioè quando il sistema magico viene trasformato è adattato nel corso dell'opera perché c'è stata una pianificazione di solito un po' becera e quindi ogni tanto abbiamo bisogno di aggiungere togliere abbiamo bisogno di contraddirci all'interno della storia perché no ma perché poi ho bisogno di questo quindi aggiungiamo questo cambiamo questo ecco no io proprio è una cosa che odio 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 e poi in generale il tipo di scrittura che io proverei veramente diventare violenta quando avviene all'interno dei libri ma non posso perché al massimo me la posso prendere con la carta è tutto quel tipo di scrittura che racconta 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 e non mostra mai o se mostra mostra esattamente il contrario di tutto quello che ti ha detto che è una cosa che mi infastidisce moltissimo perché raccontare e non mostrare mai significa che sì ok ce la stiamo dicendo ce la stiamo raccontando ma fammi vedere fammi effettivamente vedere come avvengono queste cose la dieci è il nope recommendation ovvero un consiglio che ti viene dato insistentemente o che è molto hype come libro insomma c'è qualcuno che te lo suggerisce spesso in un modo o nell'altro anche involontario ma che tu ti ci tieni ben lontano e io ho un libro che non c'entra nulla col fantasy e con lo young adult però spesso mi viene suggerito le ferite originali di Eleonora Caruso perché parla di salute mentale anche in qualche modo è vero che io ho a che fare con le salute mentali e sicuramente dal punto di vista tematico io sicuramente potrei averci a che fare e comprendere e apprezzare però ho come l'impressione che questo libro faccia un errore che fanno in tanti quando parla di salute mentale ovvero qua la banalizzazione un po' la diciamo rendere molto superficiale la questione della salute mentale a fini della trama e so personalmente che è una cosa che mi fa impazzire mi fa diventare una bestia e quindi onde evitare che io insulti la povera Eleonora Caruso me ne sto nel mio magari un giorno lo leggo e smentirò tutta questa mia impressione però diciamo visto che mi capita spesso questa cosa e è proprio una di quelle cose che mi sembra rispettosa al massimo mi dà un fastidio esagerato me ne sto nel mio eh? anche perché non ci sarebbe nulla di divertente da dire né da prendere in giro in questa cosa quindi magari aspetto un po' poi magari boh chissà 11 no pet peeve o cliché ovvero un cliché che è simile alla domanda di prima dei trope di scrittura o di dinamiche che ti fa sempre roteare gli occhi io ho diciamo il roteare degli occhi molto facile devo dire che ci vuole veramente molto poco però su questa cosa qua allora diciamo io vorrei tagliare la gola tutti quelli che scrivono I couldn't breathe ve lo giuro che in questa libreria anche nelle altre anche nei libri che voglio vendere c'è scritto almeno nel 75% dei libri I couldn't breathe cazzo io capisco però vi potete impegnare a scrivere un'altra frase quando qualcosa vi coglie di sorpresa quando uno è buono quando non lo so non sapete cosa fare quando siete in ansia quando siete in pericolo vi prego cioè non potevo respirare io non lo voglio mai più leggere ve lo giuro voglio eliminare quella frase da tutti i vocabolari e poi una cosa che proprio io non sopporto proprio impazzisco e massacro i libri proprio lì massacro se lo vedo è lo stereotipo dello strong female character che non vuol dire un personaggio femminile forte vuol dire proprio strong female character che è un tipo di personaggio che per sembrare una donna forte c'ho le palle rappresenta raccoglie su di sé tutto il peggio del maschilismo e quindi rappresenta un modello apparentemente emancipato ma che in realtà replica il peggio del maschilismo e questo io lo vedo succedere spessissimo è raro trovare qualcuno che esce da questo stereotipo a livello femminile ce ne sono tanti ad esempio mia corvere è una che prende spunto dallo strong female character ma poi si distanzia perché è una persona umana c'è l'ada di and i darken che ad esempio è proprio un personaggio molto assestante che non replica queste cose perché è proprio a parte non è che poi cede e lo strong female character è qualcosa che io ve lo giuro divento violenta anche in questo caso il 12 è il nope love interest cioè ovvero un interesse amoroso che non ha alcun motivo per esserlo cioè diciamo un personaggio che tu pensi che non avrebbe mai dovuto rappresentare un personaggio di interesse e qua riprendiamo quello che vi dicevo prima allora io se per voi ha rappresentato qualcosa mi fa un gran piacere per l'amore del cielo ma è un personaggio completamente problematico e questo è Rowan di throne of glass eccetera 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 cioè Rowan per me non è un personaggio che può rappresentare un qualsiasi interesse amoroso ok? è buono ha i muscoli ha gli addominali ovunque anche sulle spalle per l'amore del cielo ma è un personaggio problematico state lontane da chiunque imponga la propria volontà su di voi state lontane da chiunque si imponga con la forza state lontane scappate mille miglia dai personaggi come lui ok? anche se hanno le addominali in fronte vi prego fatelo per me questo non avere consenso nelle azioni non avere delle relazioni che sono pari cioè da punto di vista cioè ugualitare da questo punto di vista è un problema quando si impongono sulla forza su di voi scappate cioè proprio via telare ok? 13 nope book un libro che non dovrebbe esistere allora è difficile dire un libro che non dovrebbe esistere perché esiste la qualunque no? cioè che abbiamo letto la qualunque detto ciò secondo me è un libro che è stato pubblicato solamente a fini commerciali ma che se fosse stato scritto da chiunque altro non sarebbe apparso in nessuna libreria dell'universo è Zenith di Sasha Alsberg e Lindsay Cummings perché Sasha Alsberg è la youtuber anzi la booktuber forse più grossa che esista e ha scritto questo libro che se l'avessero scritto non so con le unghie dei piedi probabilmente sarebbe risultato un'operazione decisamente migliore ha un sacco di problematiche personaggi scritture cioè proprio la scrittura è la cosa peggiore e insomma l'ho trovata proprio solo unicamente un'operazione commerciale valido giustissimo lo capisco ma secondo me è uno dei libri che sugudrizza anche il voto più basso un po' perché chiaramente la gente poi ci ha picchiato però sinceramente avrebbero potuto lavorarci molto di più fare molti più tentativi e poi magari un editing cioè non avrei detto consistente perché presuppone che l'editing sia stato fatto ma non è stato fatto quattordici nope villain ovvero un malvagio che tu odi e che se lo incontrassi scapperesti nella direzione totalmente opposta allora in questo caso io vi dico una cosa io scapperei da uno di quei traumi che ho dall'infanzia ovvero le streghe di Roald Dahl perché le streghe come vengono descritte all'interno del libro sono dei personaggi spaventosi quindi se io trovassi loro telare anche in quel caso proprio a gambe levate però questo non è un nope cioè quindi magari un cattivo brutto sarebbe stato più giusto nella domanda no? vabbè 15 nope death ovvero una morte che ancora ti sta qua e che non hai ancora superato e anche questo caso forse non è negativo quindi stiamo diventando buonisti in questo caso vabbè in ogni caso io dico solo l'interesse amoroso di Nina Zenik in Crooked Kingdom and Six of Crows io purtroppo cioè a Nina le voglio così bene e poi ho appena letto di tutto il trauma successivo il luto cioè povera stella però ripeto quello che dico sempre le morti fanno bene all'interno del libro le morti ci devono essere ok? mettetele poi io soffrirò ma sì mettetele e l'altra che secondo me è veramente il punto più straziante già nell'Iliade chiaramente ma quando nella canzone di Achille c'è Patrick l'amore no ma io penso di non aver mai pianto così tanto leggendo delle pagine c'è proprio una cosa che ti strappa tutto quello che hai dentro è e Madeline Miller è brava è bravissima è proprio brava un bel po' allora ultima domanda numero madonna che fatica l'ultima domanda che è la numero 16 è nope author cioè un autore con cui hai avuto solo brutte esperienze e quindi hai deciso di dargliela su queste mie traduzioni e vabbè ce ne sono tante in realtà però forse quello dove io veramente ho provato solo fastidio nella lettura e neanche un minuto di piacere è John Green cioè io ci ho provato ne ho letti diversi e tutte le volte l'unica cosa che io provavo era fastidio a dei livelli proprio inenarrabili e quindi glielo ho dato su cioè io devo smettere di leggere John Green cioè poi l'ultimo che ho letto è Tartaruga all'infinito e che per me è terrificante ci ho girato anche un video dove ve ne parlavo e proprio per il motivo che vi dicevo prima sulla salute mentale cioè lui esattamente prende la salute mentale la usa come contesto senza proprio con una superficialità disarmante e a me dà fastidio raga io lo so che è un problema mio ma a me dà fastidio io se mi trattassero in questo modo vista la mia ansia generalizzata ve lo giuro che mi sentirei offesa se fossi una dei cioè mi sento offesa anche se non sono io e quindi niente ho deciso di dargliela su non mi piace neanche tantissimo la sua scrittura e quindi perché farsi del male ulteriormente no bene direi che oggi siamo arrivati in fondo e quindi questo tag dove spero davvero che non mi massacrate insomma ci sta io voglio fare anche delle cose un po' ironiche un po' divertenti se no mi annoio a girare video se a voi questi libri sono piaciuti questi tropi sono piaciuti ripeto quello che ripeto sempre non vi sentite offesi perché io offendo questi contenuti e queste dinamiche non la vostra intelligenza perché non è quello assolutamente e ci sta che uno le abbia apprezzate non abbia visto quello che vedo io ci sta normale non è questo che sto ovviamente sempre criticando però io ho tutto il diritto di consigliare o sconsigliare cose siamo arrivati alla fine quindi è il momento di taggare qualcuno io spero di vedere il tag fatto da Andrea di Leggo Scatto Viaggio che dovrà essere un po' cattivo in questo caso ti prego Andrea poi spero di sentire anche le risposte di The Italian Reviewer e anche quelle della giuggiola cioè di Piovono Giuggiole e niente io direi che per oggi siamo arrivati in fondo io spero che il video vi sia piaciuto come sempre che aveva un po' intrattenuto e fatto fare qualche risate ricordatevi tutte le mie premesse iniziali e direi che insomma io vi ringrazio per aver passato un po' di tempo insieme a me e direi che ci vediamo al prossimo video ciao ciao